Sono Anna Giulia Sant, ho 22 anni, vengo da Frailacco, una frazione in comune di Tricesimo, in provincia di Udine. Sono una studentessa di economia aziendale, lavoro come cameriera e telefonista. Nel mio anno da Miss farò capire a tutte le ragazze e non che le curve sono un valore aggiunto per noi stesse, per la nostra bellezza interiore e anche esteriore. Domani vorrei svegliarmi e avere le ali per poter vedere il mondo dall'alto. Dovrei essere io Miss Italia per le mie curve.